Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo in avaria si registrano 3 km di coda tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante del Valico in direzione Bologna. Si ricorda inoltre che sempre in direzione Bologna sono chiuse le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandici con possibili disagio alla circolazione. Passiamo sulla 15 dove a causa di lavori si segnalano rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni. Sulla statale Trebis e Tiberina sempre a causa di lavori chiusi gli svincoli di Val Savignone e Sansepolcro Sud per chi viaggia verso Ravenna. Nel comune di Lastra Assigna a causa di una fuga di gas ancora chiuso il ponte Assigna sull'Arno con ripercussioni sulla viabilità ordinaria. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!